Montesilvano e Villa 2015 ai nastri di partenza in un campionato di eccellenza che torna a riempirsi. 18 squadre e tanta voglia di confrontarsi e vendere cara la pelle è già uno scontro diretto per la permanenza della categoria. Tra la società di casa che è cambiata molto in primis nome, dirigenza e staff e gli ospiti bianco-rossi concentrati per conquistare i primi punti in palio. Davide Antignani da una parte, Simone Vitale dall'altra, i due esordienti allenatori che fanno un buon uso della linea verde messa loro a disposizione. Fischia, Luca di Monteodorisio di Vasto. Primo tempo equilibrato con lo squillo da parte degli ospiti, apertura di Paravati per Dincecco che salta Marcedule, spara forte senza centrare la porta. La risposta del Montesilvano è concreta, il direttore di gara segnala un'irregolarità su Cesarone e concede il tiro dagli 11 metri per i padroni di casa. Dal dischetto va Capitan Majorani che spiazza falso e realizza il primo centro in eccellenza per questo nuovo corso verde oro. Il Villa non si abbatte di Crescenzo al centro per Natale che sfiora il palo alla destra di Ubertini. Barbarossa dal limite non crea grattacavi al portiere avversario dall'altra parte. Pierfelice Dincecco inventa una traiettoria strepitosa e realizza il gol del pareggio. Una conclusione di pregevole fattura per il classe 98 e all'intervallo si va sul punteggio di 1-1. Nella ripresa ancora Dincecco approfitta di un errore difensivo ma pecca di lucidità e non finalizza. Bravo Ubertini nell'uscita. Il Montesilvano butta nella mischia tassone. Il classe 2001 ripaga immediatamente. Lancio di Maloku scatto letale del 19 che arma al sinistro e batte falso 2-1. Grande gioia per il fuori quota cresciuto nel settore giovanile dell'Angolana e dell'Acqua e Sapone. La squadra ospite come in occasione della prima rete non si scompone. Dincecco e paravati mettono i brividi a mister Antignani proteste per un fallo di carica. Su Ubertini e proprio l'estremo difensore di Montesilvano è strepitoso sul colpo di testa di Cristian Tacchi. Il gol del 2-2 si manifesta al 34esimo angolo di Dipenti ma inzuccata di Samuele Rossi è tutto di nuovo in parità. Al Galileo Speziale tassone è imprendibile per i difensori avversari qui. Sbaglia il suggerimento per Gian Pietro poi prende il mirino col sinistro. Palla fuori di pochissimo nel recupero Lupinetti tenta di scardinare la retroguardia del Villa ma non ci sono più emozioni. Montesilvano e Villa 2015 si dividono la posta in palio dopo una gara frizzante e con buoni spunti.